4.000 i tamponi effettuati a Teramo Capoluogo nella prima giornata di screening e solo 5 i positivi. Sono comunque pochi i teramani che fino ad oggi hanno aderito ai test di massa. Se l'affluenza continua ad essere la stessa, non si supererà il 15% della popolazione. Sul territorio provinciale e la costa partecipare con maggiore convinzione allo screening, mentre sono state scarse le adessioni del personale sanitario su base volontaria ad effettuare i tamponi. Teramo chiama così in aiuto i medici di famiglia anche da fuori comune. Bisogna dire che la popolazione dei medici e anche dei medici di famiglia è oramai piuttosto anziana, quindi sono molti colleghi che hanno anche dei problemi di salute per cui temono magari di infettarsi o di avere dei problemi a livello fisico, per cui insomma è anche da comprendere. Però tutto sommato c'è la volontà comunque di partecipare, come del resto abbiamo fatto con i test sierologici per le scuole. Sembrerebbe che vada meglio sulla costa questo screening, più persone. Beh la costa diciamo che partecipa di più, nel senso che c'è una maggiore coscienza sotto questo aspetto, essendo anche diciamo una parte di territorio molto frequentata e molto comunicante anche con le altre regioni, per cui sono più sensibili forse sotto questo aspetto. Non c'è stato diciamo il tempo materiale di fare una formazione, una informazione che sia diciamo che abbia potuto pervadere tutto il territorio. E d'altra parte ci doveva essere anche un'informazione nel dire alle persone di partecipare allo screening perché è un fatto di studio epidemiologico, ma ciò non significa che se uno risulta negativo poi dice sai sono negativo per cui posso allentare diciamo quelle che sono le precauzioni. Le precauzioni vanno mantenute, bisogna stare molto attenti ed evitare che ci sia anche la terza ondata epidemiologica.